Appuntamento al 18 aprile. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha convocato per quella data, su invito del Presidente della Repubblica e sentito quello del Senato, la seduta congiunta del Parlamento, integrato da 58 delegati nominati dalle regioni per eleggere il nuovo Capo dello Stato. È il primo e solo punto certo per la scelta del successore di Napolitano e anche uno deadline per il lavoro dei saggi quirinalizi che cercano di sbloccare lo stallo sul governo e per le diplomazie parallele alla ricerca di un'intesa sul prossimo inquilino del Colle. Col trascorrere dei giorni, l'inversione dell'agenda politica istituzionale, con la partita del Quirinale da affrontare prima di quella di Palazzo Chigi, si fa sempre più concreta. È lo scenario che il centrodestra vuole scongiurare. Per Berlusconi la questione del governo e quella del Presidente della Repubblica vanno affrontate insieme. Il Cavaliere vuole sentirsi garantito, anche di fronte alle proprie vicende giudiziarie, dal prossimo Capo dello Stato e vuole indicare lui un nome. Solo a questa condizione è disposto a non ostacolare la nascita di un esecutivo di centro-sinistra, seppur di minoranza. Per Berlusconi lo scambio è irricevibile. Il segretario del PD è convinto che con un nuovo Capo dello Stato, con il potere di sciogliere le camere che Napolitano non ha perché in scadenza, fare un governo sia meno complicato. Così ha auspicato larghissima convergenza sul Quirinale, ma ha anche chiarito che, alla lettera della Costituzione, la maggioranza dei due terzi è richiesta solo nelle prime tre votazioni, come a dire, se il PDL insiste a voler indicare lui il Capo dello Stato, noi andremo avanti da soli. I numeri, d'altra parte, dicono che il centro-sinistra ha quasi la maggioranza dei grandi elettori. Per arrivare a 504, soglia fatidica, basterebbero una quindicina di voti che potrebbero essere trovati tra i 5 Stelle se ci fosse un candidato che non dispiace a Grillo. L'asse tra il PD e il Movimento, la prospettiva di un Presidente della Repubblica non disposto a dargli ampia tutela, è quella che meno piace a Berlusconi e che consiglia la ricerca di un'intesa, se non su un nome del centro-sinistra hanno sgradito, come Amato o Marini, su una riconferma di Napolitano. Accordo che dovrà reggere all'insidia più grande in ogni elezione del Presidente della Repubblica il voto segreto. Grazie a tutti.